Buon compleanno AW Italian Podcast. In questi giorni praticamente sono tre anni che abbiamo aperto il canale, creato il logo, pubblicato il primo contenuto, insomma un sacco di cose bellissime che siamo qua per festeggiare insieme. Io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, uno degli ideatori che oggi mi sono portato tutti gli ideatori, quelli che nella primissima fase hanno composto il team, che è ancora rimasto fisso, che bello, e che insomma speriamo possa continuare a lavorare insieme. Al mio fianco avete visto milioni di volte, insieme a me ovviamente è il co-conduttore di tutti i programmi che facciamo, Fabri, benvenuto. Ciao Stefano, grazie, grazie. Auguri, auguri. Abbiamo un sacco di roba da dire oggi, e quindi due minuti di video, sì. Sotto di noi invece un uomo che ha aspettato un po' di tempo a farsi vedere, ma che in realtà lavora da tipo sempre, e ignaro del fatto che un giorno avrebbe, diciamo, fatto tutto questo, un giorno si è trovato una richiesta di, in realtà è stato seguito da un progetto, e poi ci facciamo spiegare bene da lui che cosa cazzo è successo, e a un certo punto, niente, tre anni dopo è qua, e abbiamo preso un ragazzo, bravo eh, ci mancherebbe altro, però che voleva stare nelle retrovie, e giusto una settimana fa ha condotto il suo primo programma per il Lato Velo del Ring da solo. E direi che, insomma, Fabri, è un po' un orgoglio personale che abbiamo anche noi, che l'abbiamo portato in diretta, l'abbiamo costretto a fare quello che prima o poi avrebbe fatto, quindi ciao Michi, benvenuto. Ciao, grazie mille. Allora, tutto è iniziato tre anni fa, un po' più di tre anni fa in realtà, era sempre il 2019, ma all'inizio dell'anno, e io ero in una fase un po' di svarionamento totale, mi sentivo regolarmente con Fabrizio, perché portavo fuori il cane, avevo ancora il cane, lui portava fuori il cane, ci sentivamo e facevamo la strada insieme, io da casa mia, lui da casa sua, ma al telefono stavamo insieme e chiacchieravamo di un sacco di cose, e io sono entrato un po' nel vortice dei podcast, perché ero alla ricerca, in qualche modo, di stimoli, ero per una fase un po' down, e quindi cercavo un po' di stimoli, e parlando con lui gli ho detto, ah Fabri, sarebbe bellissimo fare anche noi un podcast, ah sì sì, di che cazzo parliamo? Allora noi, di che cosa parlavamo? Normalmente parlavamo di quello che succedeva nella nostra vita di tutti i giorni, di quello che succedeva con i nostri cani, di quello che succedeva nel calcio, ogni tre per due parlavamo di cani il guerriero, e di wrestling, che è sempre stata una roba che ci ha tenuto insieme, e quindi, giustamente, Fabri, a un certo punto, mentre io era lì che mi arrovellavo, ah ma sì, mi sarebbe bello, ma di che cazzo parliamo, lui fa, beh, potremmo parlare di wrestling. Ok, parliamo pure di wrestling, però quanti cazzo ce ne sono che parlano di wrestling? E lui dice, però, la All Elite è roba nuova. Noi da All In eravamo abbastanza in fermento, c'era qualcosa di carino, questo gruppo, diciamo, di indipendenti aveva creato, diciamo, la condizione per avere uno show da diecimila persone, venduto in un attimo, che non fosse promosso da una major, e l'unica major che era rimasta in quegli anni era la WWE, quindi, ovviamente, dato che Fabri un pochino il dentino avvelenato ce l'avevamo dopo quello che era successo negli ultimi quasi vent'anni all'epoca, vedere qualcuno che ci provava veramente, che sembrava avesse le caratteristiche, e quindi sempre Fabri dice, wrestling sì, ma proviamo a orientarci in una nicchia, tanto alla peggio si chiude insieme a una federazione che nasce e poi eventualmente muore. Vediamo quello che c'è. Potendola seguire dall'inizio, avremo un quadro abbastanza completo, e quindi eccoci qua. Qualche giorno dopo, ovviamente, il problema era, ok, troviamo il modo, quindi ci vuole un nome, un logo, un qualcosa, e a un certo punto, continuando ad arrovellarci sul nome, sempre Fabri mi diceva, beh, ma chiamiamolo IW Podcast, noi siamo italiani, IW Italian Podcast, ed eccoci qua, tre anni dopo non è ancora cambiato un cazzo. Io sono quello che ha le idee, diciamo, fiume, e poi ho qualcuno sempre che me le aggiusta. Nel primo caso è stato Fabrizio, Fabri, la tua intuizione, secondo me, era stata quella più intelligente, cioè, keep it simple, l'hai presa più semplice, hai detto, ah, facciamola così. Che è un po' il problema di quel periodo, se ti ricordi, perché io avevo un sacco di idee, di cose, ma erano tutte irrealizzabili, completamente irrealizzabili. Meno male che c'eri tu che hai tenuto un po' i piedi per terra. Come ti ricordi di quel periodo? No, sì, c'eri te che avevi sta fissa di voler fare qualcosa, come cosa, e stavi continuando a cercare nome, poi sai che la mia fantasia sui nomi è... Cioè, io potrei dire qualsiasi nome, cioè, potevamo chiamarla anche Gino, Italian Podcast, cioè... Allora, in effetti, parlando, una volta era saltato fuori, ma guarda che possiamo chiamarla come vuoi, basta che troviamo uno, perché io lo stressavo molto, e lui ha un amico che si chiama Giorgio, e mi ricordo benissimo, gli fa, possiamo chiamarla anche All Elite Giorgio, se vuoi, e io ero morto già lì, quindi, niente, Fabri mi ha tenuto giù, ha fatto bene. Quindi poi, con il nome, vabbè, facciamo il logo. Ho preso il logo della All Elite, ho cercato di creare un logo simile, ma non uguale. E ovviamente, appena creato il logo, lo mando a Fabri, che da genovese non l'ha neanche guardata, mi fa va bene, perché è così che funziona con Fabrizio. E niente, quindi siamo partiti con i social. E a un certo punto c'era una persona che era in vacanza, si faceva i gran cazzi suoi, stava bello sereno, e si è ritrovato una richiesta, si è ritrovato un profilo che lo seguiva, su Instagram di IW Italian Podcast. Michi, qual è stata la tua reazione appena hai visto quel logo? Sì, io ero tipo, non me lo si era a Praga, a Borno, comunque, in Repubblica Ceca, e mi arriva una richiesta, riguardando il logo, ho detto, ma questo l'ha fatto stesso. Lavorando insieme, conosco il modo, più o meno, in cui fare grafiche. Non sapevo assolutamente niente, poi ho entrato a seguire, dopo quando sono tornato una settimana dopo, sono tornato a casa, mi ha spiegato tutto, e per esempio ero già dentro il progetto senza saperlo, praticamente. Come sempre, io con Michi ho sempre fatto così, gli ho sempre creato delle situazioni in cui gli dicevo, allora, questa che è la situazione, tu sei in questo posto, ora fai. Il problema qual è? È che ovviamente io sono quello che ha le idee meravigliose, fantastiche, miliardi di idee. Fabrizio è quello che le aggiusta, ma poi chi è che le fa? Ovviamente Michi, al quale abbiamo dato in mano le chiavi subito dei social e ha cominciato a lavorare. Dobbiamo dire la verità, inizialmente non è stato semplice capire come fare. Mi ricordo che per il primissimo podcast pensavo di dovermi scrivere tutto e dover poi, tra virgolette, interpretare sta roba qua. In fondo, si stringevano un pochino i tempi, volevamo partire e volevamo farlo presto, perché non volevamo aspettare tanto, anche se c'era poco da dire. Sarebbe arrivato il primo layout di lì a poco. C'erano stati gli speciali estivi. Bisognava fare qualcosa, non si poteva più star lì. Bisognava imprimere subito. E allora ho preso, ho scritto tre appunti. Questi tre appunti, proprio quattro righe, li ho usati per fare il primo podcast. Mi ricordo che eravamo nel studio di registrazione, sia io che Michi. Se non sbaglio abbiamo anche video registrato in parte la cosa. Sì, io all'inizio facevo i video da mettere nelle storie di Instagram. Esatto. Quindi facevo i montaggi con te che dicevi cose, magari il mixer, quelle robe lì. Poi ho perso, perché vabbè, anche con l'arrivo di streaming, se non serve niente, però vabbè, all'inizio era un modo per cercare di fare qualcosa di diverso. Effettivamente sì. Sì, e quindi abbiamo usato lo studio di registrazione, abbiamo creato questo podcast e doveva essere un podcast da una decina di minuti a settimana. Questa era stata l'idea. Un podcast solo audio, dieci minuti a settimana, annunciando che saremmo stati non io da solo, ma io e Fabrizio. E in quel periodo, voi non potete immaginare quante applicazioni abbiamo scaricato io e Fabri per cercare di capire come cazzo fare sta cosa insieme, ma mantenendo una qualità piuttosto alta. Perché una delle cose che mi dava fastidio dei podcast che sentivo era che la qualità audio fosse veramente molto, molto bassa. Io avevo lo studio di registrazione lì in casa, perché non usarlo? Al che abbiamo lavorato un sacco per poi capire che avremmo potuto fare con un metodo veramente complicato. parlare io e Fabrizio attraverso Skype registrando la chiamata, ma io al contempo registrando anche una traccia audio nello studio di registrazione. E c'era una discrepanza incredibile tra la voce che potevo utilizzare io col microfono e tutto quanto e quello che veniva poi sentito da Fabrizio, che sembrava quindi ospitato. Però almeno il 50% del podcast aveva una qualità alta. Questa era, diciamo, una cosa principale. E quindi quella è stata un pochino l'idea. Ovviamente in quel periodo abbiamo pensato di tutto per riuscire ad accaparrare un po' all'attenzione del pubblico e sono andate cose bellissime come la card. La card, che era l'unica parte scritta, che oggi sono i nostri banner che usiamo per fare il podcast, la card era tutta una parte in cui io cercavo di ricapitolare quello che si sarebbe detto poi all'interno del podcast. C'era questa parte di card che i più affezionati si ricorderanno e poi dopo cominciava il podcast e io telefonavo a Fabrizio. C'era questa gag per, diciamo, cercare di far capire che io ero da una parte e lui era ospite audio dall'altra. Facevamo questa gag della telefonata che poi è risultata anche in un momento bellissimo, Fabrizio ti ricordi, dove prima era la suoneria del telefono, poi a un certo punto tu mi fai, ho scaricato la suoneria del telefono particolare, perché dove cazzo era il programma? Era la propaganda. Ah, ok, ok, ok. Chi era più che non mi ricordo? Era squillato, l'avevano preso, ho fatto questo, no scherzo, era squillato il telefono, se non sbaglio era De Luca, era, non un telefono, era successo nei periodi che parlava, non so di cosa, era successo un affare, si era sentito questo rumore e loro avevano preso questo rumore qua, e hanno detto, se andate sul nostro sito, lo avete, mettetevelo come suoneria, e io lo faccio. Avendolo lui messo come suoneria, l'abbiamo usato come se fosse la suoneria, cioè come se io lo chiamassi veramente, da quel lato lì, ed è stato tutto molto bello. Abbiamo saltato un passaggio però, che è stato un passaggio pubblicato, ma appena abbiamo fatto il podcast, appena abbiamo creato i social, non era ancora uscito il primo episodio, ci hanno contattato ben due persone. La prima era una persona di un sito, che non vado a nominare a livello di sito, che ci chiedeva di chiudere praticamente il nostro podcast, all'interno del loro gruppo di podcast, perché loro parlano di wrestling, hanno tanti podcast, e volevano utilizzare il nostro per parlare di all elite, creando cosa? Creando un cappellone gigante, che era il loro, e noi la nicchia. L'intuizione qual è stata? Io fortunatamente, seguendo un po' di podcast, avevo l'ambizione di recuperare un po' di denaro, attraverso il lavoro, quindi facendo il podcast, recuperare qualche soldino, attraverso le pubblicità di spreaker e altre cose. Quindi ho detto, dai, non prendiamoci, non facciamoci prendere dall'impeto di questi che ci vogliono acquistare subito, ma proviamo a vedere se riusciamo a recuperare qualcosa. Non sarebbe stato il mio stile avere sopra qualcuno, volevano farci le grafiche per i video, volevano farci andare sui loro canali YouTube e quant'altro, insomma, avremmo dovuto prendere le nostre idee, cacciarle in un cassettino, e dimenticarle. Michi lo sa, è difficile che funzioni così nel mio caso, dove mi piace, io delego fortunatamente, ma mi piace tantissimo avere, io e il mio gruppo, quindi in questo caso noi tre sempre, avere pieno controllo di tutto, non dare via niente. L'altro invece che si è fatto sentire è tale Mattia Borsani, il quale, lavorando per un sito, all'epoca lavorava per tutto wrestling, punto com, voleva sostanzialmente provare a collaborare con noi continuativamente, con delle difficoltà ovviamente, cioè il fatto che lui comunque lavorasse in quel periodo, non c'erano pandemie e altro, lavorando aveva la difficoltà di non riuscire a vedere immediatamente Dynamite, come invece riuscivamo a fare noi, che attraverso Fight l'abbiamo sempre visto, o la mattina appena sveglio in diretta, e quindi giustamente è durata un po', ma poi non è potuta andare avanti tantissimo, però Mattia è colui che ha inventato il nome Elite Friday, quindi a lui va dato il merito di aver inventato questo nome. Tipo Friday Morning Stream, no? Sì, Friday Morning Stream, sì, 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 perché ovviamente, insomma, il mondo del wrestling era un pochino quello, c'erano tutte queste cose qua, no? Friday Night Smackdown, Monday Night Raw, Monday Night Raw, e quindi pensavamo di utilizzare questa roba qua, per spingere anche le persone, che seguono il wrestling in generale, insomma, a essere interessati, invece niente, siamo diventati Elite Friday, grazie a Mattia. Fabri, poi noi abbiamo fatto un'altra pazzia, perché nel contempo, abbiamo speso tipo 10 euro, penso, per fare una pubblicità su Facebook, sono arrivate un po' di persone, e allora a un certo punto, io dico, vabbè, sono arrivate queste persone, cosa facciamo? annunciamo che facciamo un raduno, nell'annunciare che facciamo un raduno, faccio questa diretta su Facebook, mamma mia, Facebook, e a quel punto, sale la scimmia delle dirette, e Fabri dice, ma sai che potremmo fare delle dirette, su Instagram? Nel momento in cui cominciamo a pensare a queste robe qua, e non erano ancora attive, non so se vi siete accorti, ma è scoppiata la pandemia, e tutti hanno cominciato a farle dirette, quindi, perché no? Fabri ha iniziato, con un'idea, clamorosamente, interessante, e al contempo, stupida, perché sono cose che teoricamente, non si fanno, e non sai mai, chi ti porti in casa, ma noi tanto, che cazzo avevamo da perdere, e dopo che lui, si è inventato, il soccolme, il bag, perché è opera di Fabri, in cui rispondiamo a qualche domanda, ok? Si inventa anche di fare delle dirette con gli utenti. In realtà, tutto è colpa di un utente, lo posso citare, possiamo dire la verità, per una volta nella vita, un utente, che era incredibilmente, strano da, non dico chi è, era incredibilmente strano da, da gestire, per queste convinzioni che aveva, allucinanti, e Fabri dice, io faccio una serie di, interviste, di confronti con gli utenti, perché io voglio lui, e voglio parlare con lui, cazzo, abbiamo trovato, a parte che abbiamo parlato, che con lui, fa ancora parte del nostro gruppo, è una persona, completamente diversa, in realtà, quando, cioè, quando scrive, fa veramente fatica, secondo me, con alcune cose, però cazzo Fabri, abbiamo raccattato, quello che poi è diventato, una parte dello staff, importantissima, Benny, che è stata con noi, per un anno almeno, abbiamo raccattato, Leonardo, con cui la prima volta, ci avevo parlato io, ma poi, Ivan, che adesso fa parte, anche di, di Ugo De Lucia, insomma, abbiamo raccattato, Enrico, un sacco di gente interessante, raccontaci un po', come cazzo ti è venuta quella idea, e che cosa facevi in queste dirette, perché ce l'è, c'è la prima che è interminabile, in uno dei momenti più assurdi, della tua vita. Ma, eh, sì, appunto, diciamo che non era un momento migliore, forse, in più, tra Covid e tutto, si stava in casa, e, e niente, mi è venuto, parlando con Stefano, ho detto, vabbè, scusa, ci sono tante dirette, le facciamo, chiamiamo loro, e poi vediamo, c'è chi dirà di sì, c'è chi dirà di no, poi, se c'è rischio di bestemmie in diretta, piuttosto che cosa, amen, cioè, si chiude la telefona, chiamate e via, cioè, chi se ne frega, tanto non abbiamo niente da perdere. E, bene, muoio adesso. E, quindi, la prima idea era stata sulla Benni, perché comunque, di fatto, all'epoca, c'era lei, e se non sbaglio, un'altra ragazza nel gruppo, però lei era quella più attiva, quindi abbiamo detto, vabbè, provo la prima, la facciamo con una ragazza, così un pochettino una cosa un po' più nuova, e provo a chiamare lei. E, tra l'altro, diretta che ha rischiato di saltare, perché un'ora e mezza prima, avevo saputo della morte di mia nonna, cioè, che c'era anche, a parte, però era una cosa, purtroppo, che si sapeva, quindi, ero già pronto, non era soltanto una conferma. e quindi, inizia sta diretta con la Benny, si comincia a parlare, io le lì, tranquillo, perché era lì e basta, e poi si va totalmente da altre parti, visto che Instagram, c'è il discorso, cosa aveva, 40 minuti, 50, non mi ricordo chi, un'orettina al massimo, sì, sì, grossomodo, era un'oretta, stavamo finendo di parlare, stava per chiudere la diretta, dico, vabbè, apriamo un'altra diretta, così finiamo il discorso, e da lì in poi, è stato il delirio, abbiamo fatto quell'ora lì, parlando di, non si sa nemmeno che cosa, doveva cominciare, quella sera lì, se non sbaglio, Dynamite, vabbè, possiamo aspettare Dynamite, non l'abbiamo fatto, l'abbiamo tirato fuori, avanti fino a mezzanotte, non so che cose, orari, così a non dire praticamente nulla, non stavamo qui dicendo nulla, però, questo è stato l'inizio. Poi, abbiamo raccattato un po' di gente, fantastica, niente, il podcast, andava, andava avanti, però, bisogna dire la verità, non è che avessimo miliardi di ascolti, ci attestavamo tra i 50 e i 70 ascolti a settimana, e anche il canale YouTube non era a livelli assolutamente alti. Un errore l'abbiamo fatto all'inizio, e questo errore, diciamo, veniva dall'inesperienza. Miki, noi abbiamo creato il podcast il venerdì, che veniva caricato direttamente da Spreaker, su YouTube, e poi abbiamo deciso di fare un'altra rubrica, che era Before the Elite. Sì? Allora, cercavamo le informazioni sui lottatori, prima di entrare nell'Aul Elite, quello che avevano fatto, informazioni molto basilari, non si andava a scavare, chissà che. L'abbiamo fatto un bel po', abbiamo fatto un paio di stagioni, fino a che poi è successa una cosa, abbastanza sgradevole. Ti ricordi cosa è successo al video di Penelope Ford? E' quello che è stato bloccato a un certo punto, dall'Aul Elite proprio, c'era stato un problema, non mi ricordo più esattamente quando, però è arrivato questo messaggio che l'Aul Elite aveva bloccato un po' di video, in generale, su YouTube, e stavo cercando di capire come era successo, c'era stato dei reclami, delle cose, e quindi noi per una decina di giorni almeno non abbiamo potuto caricare niente, è stato un piccolo problema, nel senso che almeno è stato un po' una botta, almeno per me, però, peraltro è che non capivo cos'era andato storto, perché poi mi sono tranquillizzato quando in realtà leggendo su Twitter non eravamo gli unici, quindi c'era Obrellas che stava cercando di capire come chiamare indietro le reclami, ma in realtà non si può, che magari riesci uno o due, ma non puoi, se le mandi in giro per il mondo, non hai il tempo di tirare via tutti, quindi abbiamo aspettato, è il posto. ci ha un po' incasinato questa cosa, ma in realtà eravamo un po' incasinati di nostro, e diciamo che avevamo creato delle rubriche che ci aiutavano, avevamo quindi il martedì, il before the elite, poi abbiamo creato il beyond e iw, quando hanno aperto il loro podcast unrestricted, quindi parlavamo di quello, avevamo il soccol mailbag, avevamo il podcast, a un certo punto abbiamo deciso di creare delle interviste. Mi ricordo sempre che in realtà doveva essere un podcast a dieci minuti a settimana e basta, e già qua sono tipo quattro video a settimana. Ma c'era il covid, non sapevamo cosa fare. Esatto, ovviamente non sapevamo cosa fare. Quello però ha aiutato per davvero. Sì, ma per noi è stato un problema, perché non abbiamo capito quale poteva essere la situazione. Beh, quello sì, si navigava un po' più a vista, facevamo tante prove. Assolutamente sì. Ci ha aiutato a crescere tanto, una cosa successa, ma ovviamente nel 2020. A fine 2020 succede che, fine, insomma, dicembre 2020, succede che Kenny Omega non solo vince il titolo sporco su John Moxley, ma lo fa con l'aiuto di Don Callis e dà appuntamento ai fan il giovedì sera a Impact. In quel momento, in quella circostanza, facciamo un video che si chiama Attacco frontale alla WWE. Quel video ci ha più che raddoppiato gli iscritti. Cioè, da 250 iscritti che avevamo fatto in un anno, non c'era niente, e noi andavamo avanti tranquilli e non ci siamo detti di no. Noi avevamo pensato che se avessimo raggiunto un centinaio di iscritti dopo il primo anno saremmo andati avanti. Senza un centinaio di iscritti, no. In realtà dopo un anno ne avevamo quasi più di 200, però si cresceva poco, poco, poco. Siamo passati da 250 a quasi 600 iscritti. È stato un colpo incredibile. Ovviamente come abbiamo risposto a questo colpo? Facendo un altro paio di video in quel periodo lì, diciamo extra, ma non avevamo capito il potenziale di seguire l'attualità. E quindi cosa è successo? Che siamo cresciuti un po' ancora, ma poi ci siamo bloccati, e dico proprio bloccati, tra i 600 e i 900 ci abbiamo messo più di un altro anno. E questo è problematico, perché la stessa crescita che tu avevi avuto nel primo anno ce l'hai avuta nel primo anno un pezzettino, ce l'hai avuta poi nell'anno successivo. Poi cosa succede? Succede che presi da un impeto così, pronti via, abbiamo provato a fare un altro paio di video un po' all'attacco, cioè prendendo delle cose che erano successe, delle cose che erano importanti, e boom, le abbiamo lanciate. Questo paio di video ci ha consentito di andare a circa mille e qualcosina iscritti nel periodo di febbraio, di inizio febbraio. A quel punto avevamo tutte le caratteristiche, avevamo le 4.000 ore, avevamo i mille iscritti, potevamo chiedere la monetizzazione a YouTube. Siamo partiti con la monetizzazione di YouTube, abbiamo fatto tutte le richieste del caso e ci ha voluto qualche giorno perché questa monetizzazione fosse attiva. E, cari amici, questo è un destino incredibile e in fausto per certi versi. diventiamo abili effettivamente, cioè iniziamo ad avere le pubblicità nei nostri video e a recuperare qualcosa il giorno in cui Cody annuncia che se ne va dall'aula di Wrestling in modo ufficiale. e ovviamente facciamo questo video in cui annunciamo questa cosa e siamo i primi in Italia ad annunciare questa cosa. Video che va molto bene, di certo io non mi aspetto di fare i numeri che fanno i canali che hanno migliaia e migliaia di iscritti, gli YouTuber che vanno avanti da anni, non è quello il punto. Però mi interessa fare abbastanza bene perché credo comunque tanto nella qualità del nostro lavoro e quindi io nel frattempo quando stavamo arrivando verso i mille iscritti ho cominciato a seguire un tizio che spiegava un po' di metodi su come raggiungere persone, su come fare per essere più accattivanti e quindi abbiamo cominciato a lavorare su quello da quel giorno e da lì abbiamo quasi avuto una media di un video al giorno portandoci molto molto in alto e trovandoci ad avere 500 iscritti in più al canale praticamente dal 14 di dicembre a oggi quel 14 dicembre con quella scusate 14 febbraio con quel video abbiamo fatto tipo 70 iscritti ma poi siamo cresciuti sempre cioè non ci siamo più fermati siamo andati avanti e siamo arrivati qua e continuiamo a crescere e proprio oggi che stiamo registrando questo video siamo arrivati a quota 1500 non abbiamo intenzione di fermarsi abbiamo intenzione di andare avanti di lavorare i video sono cambiati ovviamente micchi abbiamo tolto uno dei tuoi cruci le sigle raccontaci un po' di questo percorso delle sigle di AW Italian Podcast nelle sigle c'è una cosa che a me non piace fare e in realtà non piace neanche vedere normalmente le salto io le salto anche nelle serie tv però a te le volevi a tutti i costi quindi mi avevi costretto un po' a farle per ogni programma quindi dovevo sempre inventarmi qualcosa trovare la musica giusta fare i tagli a tempo perché poi c'è questa cosa che se c'è una musica i tagli devono essere a tempo quindi ci splero sempre dietro io ho questa cosa dove ovviamente mi incazza tantissimo ma poi lo faccio lo stesso quindi quando c'è una roba difficile io dico micchi fallo tu lui in tre secondi guarda e fa è impossibile ribalta la scrivania uccide delle persone tu lo lasci lì dopo una mezz'oretta arriva e fa ho capito come fare quindi io accetto le scrivanie che vuolono le persone pulire i cadaveri ma non è un problema insomma perché tanto poi lui ce la fa è una garanzia ovviamente poi dopo averlo fatto sclerare e averlo fatto diventare un professionista nelle sigle un giorno arrivo e gli dico micchi le sigle da oggi non le mettiamo più in realtà io le sto continuando a fare ma non le usa ormai ti piace fare no però è vero abbiamo cambiato un po' questo modello abbiamo abbiamo deciso di andare un pochino all'attacco nel senso che facciamo dei video che cercano in qualche modo di prevedere dove potrebbe andare l'attenzione del pubblico cerchiamo di capire quello che succede all'interno dell'universo della All Elite quindi vado un po' su Twitter guardo i nomi diciamo più frequenti cerco di capire un pochino come muovere certe situazioni ovviamente non sempre riesci a prevedere tutto però poi ti capita di fare dei video come quello su Keep Sabian che dice vabbè ma questo qua lo guarderanno in 15 in realtà no in realtà c'è stata attenzione da parte del pubblico tanta quanta ce n'è per gli altri video e questo ovviamente ci fa piacere perché forse al di là dell'argomento un po' è anche il tipo di video che facciamo che piace e per questo insomma per noi è molto importante riuscire ad arrivare a tante persone Fabri la cosa però che non è mai cambiata e che penso ci contraddistinguerà sempre è che indipendentemente dal numero di persone che ci seguono se noi dobbiamo dire che una cosa non ci piace che un personaggio che un proprietario non sono sempre in linea con quello che dovrebbe essere beh credo che noi non cambieremo mai la nostra idea e magari non spariamo cose del tipo anche perché mi darebbe molto fastidio non spariamo cose del tipo tizio dovrebbe ritirarsi oppure spero che si infortuni cose che fanno cagare no? però non smettiamo mai di prendercela con chi secondo me non sta facendo bene questo capita sempre a maggior ragione nel suo call mailbag che è partito come una cagata no? beh ci faranno qualche domanda abbiamo avuto dei giorni con tipo 30 domande stiamo portando avanti questa cosa da tantissimo tempo insomma Fabri la nostra onestà prima di tutto beh sì ma anche perché poi è facile uno dice vabbè vedi All Elite Italian Podcast non solo parlano della All Elite parlano bene della All Elite cioè qualsiasi cosa succeda e anche perché è inutile nasconderlo cioè ci aspettavamo di avere un pubblico molto pro All Elite contro WWE quindi se avessimo voluto fare i lecchini non parlavamo manco di All Elite sparavamo solo contro la WWE anche quando non ce n'è motivo eravamo vi assicuro che avremmo avuto più iscritti e cose del genere più seguito ma pulito proprio a mani basse però non ha senso avremmo deciso di parlare di All Elite però come notate ci sono delle delle scemate le dobbiamo dire avrete capito che Tony Khan non è il nostro idolo tanto per intenderci ed è l'idolo almeno di tre quarti molto ovviamente di quelli che ci seguono quindi a volte non ci capiscono perché però ci sono delle cose che ovviamente non è che poi andiamo a dire ma perché Tony Khan ci sembra no ci sembra che abbia fatto male questa cosa non sta poi dire perché a volte non ci sembra la persona più idonea a fare determinate cose tralasciando che bisogna togliere i social ma questo è un altro discorso che va a fare quindi se c'è da dire qualcosa non contro qualcosa che non va bene si dice perché se no comunque è una delle prime cose che siamo detti con Stefano se la All Elite cominciasse a fare cinque puntate consecutive che fanno schifo e noi veniamo cinque volte che queste puntate hanno fatto schifo appunto perché no e se ci dite eh ma allora smettete di guardarlo e certo se continua così smettiamo di guardarlo e cioè non è che non c'è niente per la quale quello è più voglia non siamo mica masochisti no assolutamente anzi c'è da dire che c'è stata un'altra intuizione abbastanza geniale a un certo punto e anche lì come sempre io arrivo e vado di impeto poi Fabri me la giusta e Michi la realizza cioè queste più o meno sono le cose come funzionano e abbiamo creato un gruppo Telegram l'abbiamo creato abbiamo detto vabbè buttiamoci in questa impresa io volevo fare volevo contenuti calma Stefano lo creiamo va bene cerchiamo di amministrarlo in un determinato modo e ormai sono più di due anni credo che il gruppo Telegram è stato formato e a parte due invasioni due invasioni in cui abbiamo concesso senza dare senza dare l'ok a una persona di invitare gente di un altro gruppo e sono venuti hanno fatto caos io quel giorno tipo ne ho bannati sette se non sbaglio abbiamo pian pianino visto crescere questo gruppo e nonostante sia una cosa molto di nicchia e dentro non è che ci mettiamo a parlare di tanto altro parliamo proprio di All Elite è un gruppo molto molto attivo con tante persone attive sulle 205 circa che fanno parte di questo gruppo Telegram 205 persone tutte molto educate tanto che a un certo punto un giorno è arrivato un messaggio di di un nostro utente Andrea che mi dice ma voi fate i colloqui per fare entrare le persone perché è incredibile come ci siano 205 persone tutte educate e in effetti è vero noi tendiamo abbastanza io e Fabri siamo con diciamo la mano pesante sui ban se le persone arrivano e mancano di rispetto oppure parlano in modo errato cerchiamo veramente subito di toglierle e diciamo eseguiamo subito quella che è l'epurazione non abbiamo tempo e voglia di starli tanto a educare cioè le persone devono arrivare già educate però effettivamente abbiamo un bellissimo gruppo è strano molto strano ho visto tante community e devo dire la verità capisco e di alcune di queste community faccio anche parte non di wrestling capisco quando le community sono buone sono sane ed è veramente bello vedere anche chi ha creato queste community dire sono orgoglioso della community che ho creato in effetti io devo ammettere che per quanto mi riguardano penso anche per questi altri due siamo abbastanza orgogliosi di quello che è successo con Telegram soprattutto che sono anche quelli che ci portano un po' di idee ogni tanto diciamo sondaggi all'interno chiacchieriamo abbiamo trovato persone amiche anche e quindi questo è assolutamente bello e interessante una cosa che ci è capitata recentemente a me e Michele siamo andati a vedere uno show di wrestling a Milano dovete sapere che Milano è sempre stata la città che ci ha dato più ascoltatori in Italia e c'è molto movimento in quella città molto fermento per il wrestling quindi eravamo a questo evento e siamo stati raggiunti da diverse persone che ci conoscevano addirittura una persona è arrivata con il cellulare in mano dicendo mi sto cercando la review di questo show ma non la trovo e io l'invernio non l'avevo capito è stato molto divertente vedere che era nella review di Rampage perché era un sabato quella che avevo fatto la mattina e lui stava guardando e io ero lì ed ero anche nello schermo ed è stato bellissimo chiacchierare un attimo che poi anche puoi stare due ore in quei casi erano proprio nella pausa però mi sarebbe piaciuto fermarmi anche un po' di più e è molto molto interessante e molto bello noi siamo assolutamente raggiungibili non ci frega un cazzo di niente cioè se mi scrivete in privato su Telegrami vi rispondono non ci sentiamo dei VIP ma neanche per il caso lo siamo ma non ci siamo sì lo siamo più di altri adesso vedete prima parlavo della monetizzazione letto d'oro no esatto esatto ormai 20 d'oro ma di tutto d'oro Streamyard è d'oro in questo momento voi non lo vedete è detto solo il prodotto finito ma è dorato Streamyard assolutamente no siamo siamo contenti di quello che abbiamo fatto l'ultimo passaggio che abbiamo messo in atto è stato quello degli abbonamenti e quindi il nostro canale ha avuto un po' di abbonamenti ha avuto un po' di persone che hanno deciso di sostenerci anche economicamente perché effettivamente il lavoro è gravoso abbiamo deciso di fare tanti video perché ci sono tanti argomenti da trattare qualche rubrica è rimasta perché comunque è nel DNA anche se non è il mass le rubriche sono quelle che ci fanno guadagnare meno dal punto di vista di nuovi iscritti però non possiamo toglierle tutte ci mancherebbe altro e quindi siamo molto contenti ovviamente all'interno del nostro del nostro gruppo sono entrate e uscite diverse persone per cui in ordine sparso e sperando di non dimenticare nessuno i ringraziamenti vanno ovviamente a chi ha partecipato in modo più o meno attivo in modo più o meno evidente Benny che è stata con noi davvero più di un anno mi ha aiutato a intervistare John Silver Paolo che faceva le grafiche inizialmente ci aiutava a fare delle grafiche ci aiutava a tenere il ranking questo logo l'ha fatto Paolo il nuovo logo IW Italian Podcast che ha sostituito il mio l'ha fatto Paolo e quindi insomma anche questo è opera sua e poi Salvatore Salvatore Queen che ci ha aiutato per un po' di tempo poi è un po' scomparso dai radar mi spiace non averlo sentito ovviamente chi è rimasto a collaborare con noi come Draco che scrive gli articoli di preview di Dynamite tutti i mercoledì mattina sul nostro sito internet www.italianpodcast.it Roberto che scrive alcune news tiene la rubrica You Listen in cui traduce le parole di Max Caster e ovviamente ha condotto ereditandolo dal sottoscritto il programma Tweet of the Week un programma che purtroppo non tornerà sul nostro canale perché effettivamente guardando le statistiche anche del periodo poi in cui abbiamo cominciato effettivamente a vedere crescere le visualizzazioni era un programma che non tirava abbastanza e non è per fare i fenomeni ma effettivamente bisogna tenere una media un po' alta per fare in modo che ci sia pubblico e quindi abbiamo già tolto anche noi delle cose che facevamo con più continuità come il Beyond dei W abbiamo deciso di farlo solo per alcuni nomi specifici prima lo facevamo per chiunque e i risultati ovviamente erano al termino quando lo facevi per il Kenny Omega di turno facevi un sacco di visualizzazioni quando lo facevi per la Sarta ne facevi 12 di visualizzazioni allora anche lì abbiamo deciso di dare dei tagli quindi l'abbiamo fatto davvero sulla Sarta cioè non è un un po' di cena come ho proposto della Sarta dei tagli esatto abbiamo fatto i tagli perché la Sarta poi abbiamo ricucito come mettendoci in altre cose beh comunque non è quindi per cattiveria nei confronti di Roberto o di chi attende e ha atteso ancora il tweet of the week una rubrica che avevo in mente da mille anni poi l'avevamo fatta poi l'avevo passata a Roberto per difficoltà da parte mia nel riparire bene il tweet non lavoravo bene su Twitter come ci lavoro adesso e quindi chiaramente le circostanze mi hanno portato da un'altra parte diciamo però non è per cattiveria nei confronti di nessuno semplicemente è un dato di fatto che se una cosa non sta funzionando è inutile tenerla lì tutte le cose che funzionano portano il bene le cose che non funzionano evidentemente è il contrario non è detto che sia finita qui la storia del tweet of the week se trovassimo un altro metodo un altro modo un'altra strada magari non è più i cinque magari è uno solo magari non lo so però sicuramente non sul canale YouTube dove purtroppo dobbiamo seguire molto l'attualità l'attualità quella vera capito cioè l'altro giorno c'è stato l'annuncio di fight che avrebbe tolto le dirette sarebbero andate su Sky abbiamo fatto subito quel video quindi bisogna anche capire un po' questa situazione perché è lì che dobbiamo andare sicuramente ho dimenticato qualcuno per strada qualcuno l'ho dimenticato anche volontariamente però sono stati tanti quelli che ci hanno aiutato e tutti tra noi non abbiamo tanti sì che ci aiuta ancora c'è Leo sì sì ma Leo fa parte del team Leo Leo fa parte del team non ci mancherebbe altro lui è parte della squadra e in effetti la squadra com'è rimasta la squadra è questa in realtà c'è una parte internet sito internet scusate che è gestita quasi nella totalità da Mickey per quanto riguarda la home gli episodi caricati l'albodoro queste cose qua la gestisce lui la parte del news c'è dentro Giacomo Violent Gentleman lo trovate in questo modo qua sul nostro gruppo Telegram Roberto io ogni tanto butto dentro qualcosa e Draco e poi c'è la parte YouTube che ovviamente vede la squadra Sokol Mailbag io Fabri e Leo che Leo ogni tanto si presta anche ad aspettare i nostri comodi per poter fare insomma i video a volte dobbiamo anche anticipare quindi non sempre riusciamo a tenerlo lì però speriamo ci possa essere sempre più un coinvolgimento anche per lui che è stato sempre molto disponibile e ovviamente una persona straordinaria con la quale tra l'altro Fabri ha portato da qui al lato viola del ring anche il late night show del venerdì sera che poi adesso è diventato il late night show del lunedì sera insomma Leonardo è stato veramente prezioso in tutto quello che ha prodotto con noi poi ovviamente ci sono io che faccio 1500 video e ormai vi sarete rotti le palle di vedermi ho divato ovviamente da Fabrizio per Sokol per il podcast e per magari i video che riguardano gli abbonati su delle news che vi va a beccare magari dei lottatori più della parte spagnola e quant'altro però se dobbiamo ringraziare qualcuno perché questo progetto funziona va e si muove sulle sue gambe beh questa persona è Michele che credo sia la vera anima di W Italian Podcast la persona con cui probabilmente andrà in guerra in qualsiasi momento e che sicuramente fa parte al di là di tutto di questa famiglia ma anche proprio della mia nel senso che insomma stiamo lavorando insieme da anni l'ho preso che era un bimbo praticamente e l'ho forgiato a schiaffi e carota e bastone però guardate che cazzo è diventato che cosa ha tirato fuori quindi l'orgoglio personale e un ringraziamento grande penso da parte di tutti vada ovviamente a lui grazie Michi è un piacere è stato ovviamente bello questo percorso ma come dicevano i Bachman Turner Overdrive you ain't seen nothing yet baby esatto devi far mettere se no non funziona è bellissimo quello parlo quindi 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 volevo essere una cosa di 20 minuti è diventata di 50 quasi odiatemi ma abbracciateci perché abbiamo veramente avevamo voglia di parlarvi un po' di questi tre anni ve la facciamo uscire a Ferragosto così dopo che avete mangiato dopo che avete finito con la spiaggia dopo che magari date una guardata e capite a che punto siete arrivati anche voi di questo percorso e capite quanto è importante che restate con noi e ci ha aiutato a portare avanti questo progetto che è veramente figo quindi grazie a tutti quelli che hanno seguito grazie a tutti quelli che hanno deciso di entrare a far parte della nostra community a più livelli chi si è iscritto al canale chi si è abbonato al canale chi è entrato nel gruppo Telegram grazie veramente a ognuno di voi ovviamente qua ringraziamo per la presenza anche in questo programma Michi grazie mille per aver partecipato grazie a voi è stato un piacere è stato un piacere anche avere Fabrizio che come sempre è stato intercettato per pochi minuti e poi si è dovuto subire tutte le parole fino alla fine grazie Fabri per la pazienza grazie grazie a te a Michele a chi ci segue servirà è certo il saluto è da parte nostra di Leo di tutto lo staff del sito insomma grazie 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 è stato un piacere finora sarà un piacere da ora in poi e occhio eh perché a settembre quel cazzo di raduno lo facciamo quindi tenete d'occhio i nostri social e ovviamente il nostro gruppo Telegram grazie di cuore per aver seguito ci risentiamo alla prossima grazie a tutti